Direi che la soddisfazione, se si può utilizzare un termine di questo tipo in un contesto del genere, è nell'aver ritrovato il corpo, anche se in condizioni non ottimali, per poterlo poi consegnare alla mamma e ai parenti e avere questa forma di pietà umana nei confronti di chi ha subito un dolore così grande. Emotivamente anche voi siete stati coinvolti nella giornata di ieri? Direi di sì, l'emozione c'è stata da una settimana a questa parte, da quando abbiamo eseguito i fermi, perché le persone coinvolte sono ragazzi giovani, sia dal lato di coloro che parrebbero aver commesso il fatto, sia dal lato del credo, del ragazzo che è stato ucciso. Quando si parla di ventenni, di diciassettenni e di un delitto di questo tipo, non si può non restare coinvolti emotivamente, anche se bisogna, come potete capire, rimanere lucidi e razionali per compiere gli atti che devono essere compiuti. Da punto di vista delle indagini, si può dire oggi la premeditazione dell'omicidio quanto può essere durata? Ma allora, la contestazione fin dall'inizio e l'ordinanza di custodio cautelare in carcere la contempla, prevede la premeditazione. Non si è trattato di un, quello che viene definito anche, non solo nella giudiziaria, ma anche sui mezzi di informazione, un delitto di impeto, un raptus. Era stato programmato. La durata della programmazione non è rilevante ai fini della sussistenza dell'aggravante. Rileva nel momento in cui c'è la predisposizione di un piano che consenta la realizzazione più facilitata dell'omicidio. L'autopsia quando si... Sabato. L'autopsia verrà effettuata nella giornata di sabato. Un ultimo dettaglio sulle indagini. Si parla di una sesta persona coinvolta. C'è qualcosa di vero? Dalle intercettazioni che sono state anche pubblicate, il giorno successivo al fatto del 12 emerge, ed è stato riportato anche lo stralcio, un colloquio del FOD con un'altra persona, non coinvolta nei fatti della sera precedente. Al momento questa persona non ha un ruolo, non è indagata, perché l'essere a conoscenza di ciò che hanno fatto altri per il nostro sistema processuale non integra fatti specie di reato.